Angioli Bari salva in C, Sunshine Vieste promossa dalla D. E' tempo di verdetti nel weekend tra maggio e giugno, nonché l'inizio delle serie di confronti decisivi. Su tutti, quello della finale play-off del massimo campionato regionale fra Cestistica, Ostuni e Nuova Aglius Sansevero. Il primo round è andato a Morena e Compagni, vincitori al Palagentile per 63-59. Un distacco indicativo di grande equilibrio e per Giunta maturato nell'ultimo periodo che gli ospiti avevano cominciato in vantaggio di un punto. Miglior realizzatore dell'incontro, Bielic con 24 punti, ritorno fissato per giovedì. Concluso intanto, il secondo ed ultimo turno dei play-out che ha visto Angioli Bari conquistare la permanenza in C ai danni di Allmore Lecce. Al pala la sala, in gara 3, proposta nelle immagini, è finita 74-66 per i padroni di casa. Di bella in bella scendiamo in D per salutare la promozione di Sunshine Vieste che all'Omni Sport ha regolato Mensana Mesagne per 62-49. Ancora una volta decisivi due americani autori di 50 punti in due, in particolare davvero scatenato Neil che ne ha fatti registrare 34. Fattore campo saltato invece a Martina Franca dove il primo confronto della finale play-out è andato ad Olimpia Rutigliano, impostasi per 71-56 su Basket School. I baresi ora hanno la possibilità di chiudere i conti in casa mercoledì sera.